il prossimo plego chi è d'arco parco a ma veramente gli asoli gioca figa guarda questo account 388k sui asoli vai giangoli vai dottor morzenti vai piuttosto lo gioco io gli asoli meglio viego che in giulia non giocare per l'amore del cielo xinzao xinzao il china giulia ma perché odi x e odi jack io penso di non avere memoria io non ho memoria dell'ultimo game che non mi ha vintato giulia vieni a giocare duo la vinciamo che ti manno che devo fare vuoi che doggio no è vinto vieni un altro account è vinto è vinto hanno un team compo molto caro camia è passato ragazzi sono in duo sono in duo con un di uno devi carriare sto game cioè me lo carri tu io non devo fare inizia di uno ho sbaglio tu scusa eri di uno io oggi sono di 3 0 lp sono quasi di 4 io faccio schifo se l'hai variato col massimo è vero cioè se non la carri tu che la devi carriare io cosa tagliarlo eh ma perché bravo mi ha già flashato come ha flashato oh lo chiudo lo chiudo oh è un coglione mia 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 ti prego mia grazie prego ammio vai 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 mi piace ah non ho la ult grazie bro lo fai tu? sto arrivando mi devasto non so oh cazzo questo no però nooo ho rullato io ma è bello la buga no di uno ah se non tornavi in non morivi lo uccidevo eh sì non uccideri Diego ci sono si può si può vai 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 cazzo questo no Diego 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 oh potete andare su Diego me lo stampa anche l'alto oh raga oh non ho messo un charm non ho messo un charm oh bravo mezzo di vincere sto cazzo di game allora se la vincita di game dipendesse da quanto so grossa il gli vincerei tutti cazzo tipo uno schiaffo più forte vince oh na no raga ho messo il primo charm quello credo vabbè che tra l'altro e tra l'altro non so se raga non funziona il mouse raga non funziona il mouse ah no ho messo il charm perchè non funzionava il mouse quindi abbiamo un po' un problema comunque su tre teammates tutti e tre stanno intanto se riesce a ingaggiare non posso ok eh sono un po' lontano riesci da sola nice è lui che è da solo non io posso posso saltare su cazzo pia non ho messo non ho messo una non ho messo un ci ha messo solo se si spegne il mouse vero? cioè il mouse cerca di giocarmi contro ma non ci riesce neanche lui è patetico patetic qua mi sa che ho guardato c'è i cassi lì sono la gatta ci sono scusa well played mi sono certificata però è una giusta causa eccola eccola ah forse è guardato oh ci sono ma tu non ti sei accorto che stavamo ammazzando di botte trash non ho capito chi ammazza di botte queste non so non so ma cos'è? oh oh guarda faccio le tue meale no giu che meno no giu la cosa? no giu la cosa? you fucking 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 bloody bloody bitch no occhio i'm flanking ma comunque questi game strano mi spariscono le culo boom i tutti charm nice charm questa è la definizione di 2v8 sono estremamente triste non è ancora pronto sono la donna più triste del mondo nonostante abbia fatto un bambino in questo game e lui si sia beccato 4 honor non io quando palesemente sono stata io quella che ha fatto i game changing charm della partita questo fa capire quanto la nostra società sia costruita sul regime sessista sul patriarcato puro solo perchè lui sta giocando un campione maschio quindi hanno onorato tutti lui perchè ari è femmina e non è ari non può chiedere perchè è femmina e il giocatore si chiama annabel quindi mica vai onorare la femmina che gioca mid perchè non solo annabel è una bella femmina ma anche ari è una femmina quindi non mi hanno onorato solo perchè sono femmina i danni non contano Jack perchè tu fai io stavo lì ok con la lente di ingrandimento con la squadretta e la riga la squadra e la riga calcolare l'angolo perfetto per cui il mio charm ok che è stretto così il mio charm passi in mezzo all'oblicuo parallela del minion su viego ok per prenderlo sotto torre ho fatto l'engage su vain e late game 1v5 l'ho cermata l'ho tenuta ferma 3 minuti e poi ti ho fatto però tutto a te il merito tutto a te il merito non a quello che è il charm stretto così più difficile che entrare nella figa di una 2008 la fai giocare all'oro no lei ce l'avevo prima nel team 4 ollie in team avevo anzi in realtà ollie giocherebbe meglio di quelle bestie vero amore mio cosa che ha un'intera quella merda 9 Irelia io non so perchè ho preso Irelia io non so giocare Irelia no io Irelia non l'ho mai giocata sulla landa Ascini tengo se mi ha preso il pass dai non mana no vabbè ti dovrebbe morirci anche di auto va a posto oh ok 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 allora I guess chi va più ok potrei aver rinzato e chi è quell'Erel? ok vabbè ho avuto la risposta vai vai mi piace questa criminalità io ci vado io ci vado eh che cosa ho avuto che cosa ho avuto che cosa ho avuto come tante volte è flashato? Ma come non sono morta, cosa ha fatto? Rinzarunza, avanti e indietro, dietro e avanti. Notate come io sono incazzata come la vese con Katarina? Questo ragazzi è per tutti i miei fratelli che giocano contro Katarina e non riescono a vincere. Questo è per voi. Ah, non ho capito il cazzo, troppi dash, non sono abituate, dash, ahhh! Cosa? Ott, perché non mi ha dato il regè? Non ho capito l'asset? Fate il bar, fate il bar. Zia l'ultimo. Ti fai qua. Ti diverti, Zrian? Ti diverti?! Stronzo, non ti devi divertire, cazzo! Il tuo non divertimento è il mio divertimento, figlio di puttana! Guarda, io ci vado, io ci vado, io ci vado! Eh, arrivo! Mi è piaciuto il flash per follow-up. Certo. Guarda, è mai OP! Ci sta! È OP sto campione! WTF? Vabbè adesso rifacchiamo! Aiii! Peccato! Figgi! Non ci credeva nessuno, manco io! Però va bene lo stesso! Chad danza? Ovvio! È la base, cazzo! Non sei Chad, non parlare con me! Basta! Auga! Addirittura! What's wrong? Quanto tempo non succedeva?!